Il progetto Kid Actions è coordinato dalla Fondazione Bruno Kessler, è un progetto della durata di due anni. L'obiettivo è quello di costruire insieme agli attori coinvolti nel fenomeno del cyberbullismo, in particolare educatori e studenti, dei tool che permettono di aumentare la consapevolezza del fenomeno e di sviluppare resilienza nei ragazzi. Il progetto Kid Action si propone di avere un impatto reale sul territorio, non solo quello trentino ma anche nazionale e internazionale. Per questo motivo gli strumenti che verranno sviluppati nel corso di questo progetto saranno co-costruiti con la collaborazione degli insegnanti e degli studenti. Inizieremo già da questi giorni a fare delle sessioni di co-creation qui in Trentino e poi nel resto del territorio nazionale. La partnership del progetto, oltre alla Fondazione Bruno Kessler, prevede Amnesty International, European Schoolnet e Youth for Exchange. Questa partnership garantisce che alla termine di questo progetto qualcuno prenderà in carico gli strumenti e li renderà operativi sul territorio nazionale europeo.